L'aggiornamento 2019 del piano ospedaliero campano, ovvero lo strumento con il quale vengono ripartiti i servizi sanitari ospedalieri ai cittadini campani, si è rivelato peggio del previsto per i cittadini della Valle del Sele e del Calore. Su circa 797 posti letto pubblici ospedalieri spettanti e da ripartire tra gli ospedali di Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra e Rocca d'Aspide, ne vengono riconosciuti solo 442. Tutto l'impianto risulta in contrasto con le normative nazionali e con il buonsenso, tuona Adelizzi Rosa, presidente del Comitato per la tutela della salute pubblica. Il piano per ciò che attiene alla provincia di Salerno non risponde a logiche di equità nell'accesso dei servizi da parte di tutta l'utenza salernitana e di giusta ripartizione dei servizi previsti sui territori dell'intera provincia. L'area della Valle del Sele e del Calore ha circa 310.000 abitanti e risulta in toto l'area più popolata della provincia di Salerno e ora la meno servita in termini di posti letto ospedalieri. Anche sulle tematiche dei punti nascita detta area risulta la più penalizzata con la chiusura dei punti nascita e delle pediatrie di Eboli e di Oliveto Citra. Valuteremo il da farsi con i comitati territoriali e le forze politiche che vorranno rivendicare i diritti dei dimenticati. Grazie. Grazie.